a proposito delle ultime notizie volevo partire eh veloce veloce su invece una notizia che che trova riscontri cioè eh le avance eh del Bayern Monaco a nei confronti di Adrian Rabiot cioè il Bayern comunque in un eh range piuttosto ristretto di possibili nomi per implementare il il reparto di centrocampo ovviamente Rabiot rimane anche tra coloro che sono sono eh in una condizione particolarmente allettante considerata la situazione contrattuale e quindi questo può aggiungere eh un po' di ti costa qualcosa in più come ingaggio rispetto agli altri profili in chiave Bayern ma ovviamente non ci sarebbe il cartellino magari solo il premio alla firma leggo e chi sarebbero i competitor secondo Christian Falk allora eh Federico Redondo 21 anni argentinos free agent anche lui però tutto da dimostrare un cognome importante eh è suggestivo figliolo eh Subimendi della Real Sociedad 60 milioni di clausola recessoria Paligna che avete già visto all'opera col Portogallo eccetera eccetera c'è troviamo pista Fulham 28 come Rabiot contratto duemila e ventotto costerebbe il cartellino e ci sarebbe Adrian Rabiot free agent proprio in cima alla lista dei eh desideri io vi aggiungo così la chiudiamo e l'affrontiamo subito poi magari con Albanese ci torniamo sopra aggiungo che sicuramente chi ha sondato oltretutto dall'estero Adrian Rabiot Rabiot che non si è seduto ancora al tavolo con nessuno questo arriva così io lo interpreto così quello che mi arriva da da l'entourage ristrettissimo di Adrian eh anche un una richiesta di di situazione di informazioni ovviamente direttamente al calciatore da parte del Barcellona questo questo sono i due rumors che li possiamo metterli anche eh nella stessa frase no ecco speriamo che vada Filippo Gatti Filippo Gatti lì che dice tanto cioè speriamo che vada tanto il mondo è bello che ce ne facciamo di Rabiot eccetera eccetera Simone come ricevi cosa cosa prospetti detto che la Juventus eh non ha ancora eh diciamo non è né nella fase già del dopo Rabiot ma ovviamente non può nutrire particolari certezze che ne dici tu non lo so dobbiamo farci una ragione senza contratto sapevamo il rischio che correvamo secondo me non è il problema è tenere trattenere Rabiot è trovare dei centrocampisti nuovi che non abbiamo in rosa per cercare di rifare un centrocampo stile quello di Berlino 2015 per intenderci quindi Vidal speriamo che possa essere Alcarazzo eh Pogba boh difficilissimo oggi è tornato è tornato su alcuni media il nome di Kefren Turam eh in orbita Juventus eh che è sparito per qualche mese prezzo si parla di cinquanta milioni di richiesta al momento io non posso registrare offensive della Juventus ma che giocatore piaccia lo sappiamo e Pirlo chi sarebbe scusa Simo? Il problema è lì. Punto ancora più difficile cioè non lo so. Lo 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 non devi farla messa domanda. Lo 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 lo. Tu che dici Giacomo su questo? Il grande assente di quello schieramento potenziale in questo momento è proprio Pirlo. Un altro Pirlo non esiste. Fagioli. Con caratteristiche simili fatico a vederlo. Io mi sono chiesto una cosa. Come mai io resto a quest'anno? Poi Rabiot se proprio deve andare io spero che vada all'estero. Visto che proprio nella settimana pre derby d'Italia era uscita fuori la voce dell'Inter ma del resto il Bayern è una società molto amica a quella nerazzurra visti anche gli ultimi eh le ultime operazioni eh mi chiedo come mai tra i tanti esperimenti allegrate che diciamo ogni tanto ci sorprendono Allegri non abbia riproposto non per forza con l'Inter per quanto all'andata ci abbia ci abbia provato non abbia proposto qualche minutaggio in più per Nicolussi Caviglia magari provando a rimettere Locatelli nel ruolo che a Sassuolo gli era più congeniato. Però posso dire che al terzo anno di convivenza tecnica e di eh studio reciproco tra Allegri e Locatelli se non ce l'ha mai fatto vedere solo credo due volte a gara in corso per delle necessità sostanzialmente quantitative e numeriche sinceramente credo che non ci sia una possibile virata all'orizzonte in merito. Ripeto due anni e mezzo allora abbiamo con noi così lo tiriamo dentro questo ragionamento iniziale affrontiamo iniziamo affrontare la puntata di oggi anche un un giovane amico giovane perché ovviamente tutto è relativo eh però rispetto a noi è giovane Alessandro Crosta vediamo se riusciamo a mandarlo qui in live con noi ciao Ale ciao ragazzi ciao come stai? Ciao buon venerdì tutto bene tutto bene dai questa mattina mi sono allenato sono un po' stanco un po' di acciacchi tu fai allenamenti la mattina ma individuale mi alleno io io l'allenatore lo faccio il pomeriggio la mattina mi alleno io bravo quindi sei a pezzi praticamente eh un pochino senti Alessandro vuoi presentarti velocemente sei già stato una volta in live con me però presentati che questo è un prime time è quello delle quattordici intanto presenti ragazzi allora io sono un giovane allenatore di Roma ho 24 anni quindi penso rispetto a voi un pochino meno lavoro qua a Roma ormai da due anni ho finito i studi universitari ho fatto laurea magistrale triennale in scienze motorie e faccio sia allenatore che match analyst per il settore giovanile di una società qua a Roma non so se conoscete la Vigor per Conti e come ha detto prima Monblano su su Twitter io ormai lo chiamo Twitter anche se è passato in X mi mi esprimo sulla Juventus che è la squadra che tipo da quando da quando sono piccolo quindi è un piacere per me essere qua con voi confrontarmi ecco su questo scappato intanto Luca rabbio anche rabbio è stata una volta qua per parlare di di Wea a queste stagioni quando l'avevamo acquistato aggiungo comunque una considerazione poi magari la ripeterò anche a Luca quando torna no rispetto alla provocazione di prima quando avevo detto Nicolussi Caviglia con Locatelli Allegri comunque in passato anche a distanza di tempo certi cambiamenti importanti non ha non ha avuto problemi a farli mi ricordo sempre insomma l'intuizione di di mettere dopo un anno e mezzo che lo conosceva Mandzukic giocatore di fascia praticamente ed è stato un crash in quella stagione dopo una sconfitta mi sembra con la Fiorentina per mettere il 4231 quindi insomma eh se i giocatori ce l'hai puoi anche provare chiaramente parliamo di profili diversi da quelli attuali eh forse era più facile con ma non era scontato perché insomma se ci avessero detto quando è arrivato a Torino che Mandzukic avrebbe giocato Ala addirittura tutta fascia forse non ci avremmo creduto chissà Sì ragazzi ma di meno dopo la sconfitta di Firenze Sì sì bravo Esatto bravo bravo In quella stagione Abbiamo fatto subito due gol quadrato Higuain sì 16-17 poi l'anno che ci ha portato a Cardiff Esatto era gennaio era gennaio Assolutamente era dopo eh cioè l'anno che siamo andati poi a Cardiff e comunque un centrocampo con Pjanic e Kedira Certo esatto profitti diversi da quelli attuali Non tantissimo dinamico nel senso che sicuramente non c'era il Vidal della situazione però un'intelligenza difficilmente arrivabile Sì sì la Juve del 3 a 0 al Barcellona Esattamente Insomma Comunque lo metteva all'ala perché era uno che poi correva dall'altra parte cercava di sacrificarsi il quadrato anche se poi spesso metteva anche un po' Dani Alves se ti ricordi quell'anno perché cercava di mettere Barzagli come finto terzino con Dani Alves si teneva a quadrato in panchina a Cardiff almeno ha fatto così C'era Dani Alves da una parte e mando giù dall'altra poi c'era Di Bala dietro Iguain Insomma non male Si sente meglio ragazzi che c'è un microfono Sì sì Eh sì esatto ho sentito l'ho sentita nelle nelle cuffie c'è un microfono della webcam che è lontana e non si sentiva niente Eh ragazzi la prospettiva della webcam purtroppo la posso tenere solo là perché dietro se la metto qua davanti allo schermo dietro ho la finestra di casa e non si vede nulla perché fa riflesso la luce già provato e non si vede assolutamente niente Intanto ne approfitto per chiedervi una cosa secondo voi faccio vesto i panni del del giornalista che fa le domande secondo voi quanto è importante questa gara con l'Udinese perché il mio timore che a livello morale eh la sconfitta di Milano sia molto pesante a livello di fiducia a livello di credere di essere ancora in corsa Vado io? Vai Allora io non credo che la sconfitta di Milano ci ci dia un diciamo un ridimensionamento a livello di autostima perché se posso riconoscere un merito ad Allegri è quello di non di non sbilanciarsi e di non far sbilanciare il gruppo né nelle positività che nelle negatività quindi secondo me è una sconfitta che lui nella sua testa non avrebbe voluto ma che aveva messo in conto secondo me perché purtroppo puoi perdere a San Siro con questa Inter e dato che l'Inter adesso avrà la Roma che sul ai nastri di partenza è favorita l'Inter ma la partita va giocata e poi inizierà il percorso in Champions che non è scontato che Inzaghi dia per diciamo abbandoni la Champions per concentrarsi sul campionato perché sapete quanto è importante dal punto di vista finanziario passare i tour in di Champions e sapete la situazione economica dell'Inter quindi secondo me la Juventus non è per nulla eh abbandonata a se stessa al punto di vista della classifica anzi vincere con l'Udinese soprattutto perché giochi dopo l'Inter quindi vediamo domani il risultato però se dovesse avere un passo falso l'Inter anche un pareggio per me la partita con l'Udinese che non sottovaluterei perché l'Udinese è una squadraccia è sempre stata una squadraccia è molto importante come per me sono importanti tutte le partite un cordo sull'importanza su me è di un'importanza enorme sono un pochino più con l'idea che abbiamo preso un una botta psicologica ma io non la faccio derivare tanto a San Siro quanto la partita prima in casa con l'Empoli che abbiamo perso l'occasione quindi secondo me il piccolo trauma psicologico spero piccolo è nato proprio col pareggio l'occasione persa di Empoli cioè con l'Empoli in casa e quindi secondo me con l'Udinese vincere è importante a prescindere da cosa fare l'Inter l'Inter potrebbe anche vincere 5 a 0 a Roma come perde il 5 a 0 l'importante noi che facciamo il risultato tre punti con l'Udinese è importantissimo come ha condotto Giacomo bene bene professionista gravi responsabilità mi hai lasciato allora Alessandro si è presentato abbiamo già introdotto magari quelle che sono le due le due partite su cui avremo i fari puntati però Luca io ho rivangato ho rivangato un'allegrata nel Mandzukic messo laterale dopo un anno e mezzo per questo quindi abbiamo il fatto mi lascia pensare che non è non è escluso che si si veda qualche si possa vedere qualche sorpresa nelle prossime settimane molto dipende anche dall'inserimento di Alcaraz perché secondo me può essere un giocatore che in breve tempo potrebbe guadagnarsi la maglia da titolare allora c'è una confidenza che ho raccolto di Allegri è veramente incontrato un tifoso un tifoso illustre con il quale ha scambiato due chiacchiere durante un trasferimento Milano Torino e alla alla battuta del dell'interlocutore guarda preferivo perdere 5 a 0 piuttosto che perdere su un autogol gli ha detto l'interlocutore ad Allegri Allegri ha come dire un po' nicchiato e ha detto tu stai tranquillo che tanto gli stiamo addosso fino alla fine questo vediamo vediamo no evidentemente magari c'è anche l'idea poi ovviamente non dipende da noi che l'inter non farà percorso netto ecco anche se la squadra che si sta vedendo una squadra che sembra avere pochi punti deboli in questo momento no ecco Alessandro tu sei d'accordo cioè pochi punti deboli l'inter purtroppo purtroppo sono innamorati come gioca l'inter da gioventino sono innamorato dell'inter quest'anno anche da che ti mando c'è un canale su twitch molto carino mi dicono io non ho visto che si chiama Amala posso dare il tuo contatto e così no e tu mi hai fatto una domanda io ti rispondo da da conoscitore di caccio non da tifoso la odio da da esatto da osservatore di partite giova benissimo non posso dire nulla cioè tu quando porti quando però domenica primi 45 minuti non ha tirato in porta compreso il gol che non è un tiro no 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 certo certo ma ovviamente la partita secca quando giochi uno scontro diretto tra juve inter poi le differenze secondo me si assottigliano è l'arco del campionato che ti fa vedere la forza di una squadra sicuramente sicuramente ma l'inter è straordinaria sull'1 a 0 poi non prende gol gli ultimi 20 minuti se non riesce a segnare il primo gol e non ha qualche vicenda favorevole diciamo così fortunata che l'aiuta sbloccarla vedi napoli vedi rigore col udinese vedi rigore col frosinone tutte situazioni episodiche per carità dopo sull'1 a 0 è una squadra incontenibile e questa 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 è una grande dote anche perché è una dote questa qui specifica detto giacomo interessante perché è una delle cose che invece non non abbiamo mai riconosciuto davvero alla juve di questi tre anni tre anni cioè una volta andato in vantaggio non diventi meglio di prima non diventi potenzialmente straripante ma ti chiudi inizia a ragionare in funzione dei tre punti e poi di conserva più o meno perché a volte si fatica di più come energie a stare lì dietro che 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 a contrattaccare o a essere più cioè questo se si pensa che a me si metti là dietro e quindi fai anche meno fatica non è esattamente così secondo me secondo la fatica psicologica si assomiglia molto è un tipo di fatica sulla quale però questa juve è allenata cioè allegri allena i giocatori a sopportare a vivere positivamente non so come dire a vivere attivamente anche il fatto di essere sulla difensiva o come un baricentro diciamo un po così intanto questa cosa farà discutere no non sto dicendo un'altra cosa clippate nutriuveri ascolta e via è una predisposizione alla trincea diciamo così scusa non ho fatto pronunciare il nostro amico interista su sull'argomento iniziale sull'argomento iniziale intanto vedo che gli fanno i complimenti a casa bravo di così bravo di così cioè fa praticamente un è un cavallo di troia ecco no allora Ale e noi abbiamo iniziato ribadendo questa cosa Rabiot avrebbe ricevuto due due tra l'altro da lontano Alessandro ha una vaga a somiglianza con Del Piero del Piero no così no c'ho la maglia firmata di Dylan Camera guarda che collassa poi c'ho la maglia firmata l'ho incontrato quest'inverno a ottobre a Roma intanto muto eh Simone perché un leggero ritorno e temo che sia lui no dicevo Rabiot avans del Bayern Monaco che lo ha messo nella lista dei due tre potenziali obiettivi sensibili per il centrocampo e anche sondaggio del Barcellona il giocatore non non ha scelto e ha detto alla Juventus poi io non so che non si siederà con nessuno neanche con la Juventus fino a marzo poi inizierà a fare i ragionamenti addirittura qualcuno vocifra che lui tanto eh aspetterà l'europeo secondo me a me sembra esagerato anche se l'anno scorso ho aspettato tanto prima di sciogliere le riserve ma aveva deciso che sarebbe rimasto Torino l'abbiamo capito eh ti spaventano eh quello che ho percepito dalla chat Alessandro è che Rabiot anche per coloro che lo ritengono importante venga percepito come forte ma sostituibile stiamo sbagliando? Allora sostituibile dipende allora nel nello scacchiare di Allegri secondo me no insostituibile per come gioca Allegri e per quello che chiede dai centrocampisti no con un cambio di allenatore chiunque è sostituibile perché non sai chi chi prende le la gestione della Juventus e non sai quello che chiede a un centrocampista per me le cose sono due se Allegri rimane Rabiot deve rimanere quello è quello che penso io se a fine anno ci sarà un cambio di allenatore quindi anche un cambio di richieste tattiche individuali e collettive dei giocatori allora Rabiot si può sostituire l'hai visto in questi anni con Pirlo e con con Sarri io non ho visto un Rabiot spettacolare perché avevano un modo di giocare diverso con con Allegri il Rabiot ha dato il meglio di sé forse ha fatto due anni migliori un anno e mezzo due anni migliori della sua della sua carriera Rabiot non è mai determinante secondo Ikebana quindi è sostituibile no allora Alessandro ha detto una cosa interessante lui dice se il progetto in qualche modo si proverà a farlo decollare con Allegri che ne sta guidando questi primi vagiti Allegri ti dice ok va via Adrienne sappi che una è difficile trova un altro così ok per me non è uno dei sostituibili forse però mentre se si ragiona a 360 cambia tutto con Allegri camminano tutti ecco il custo arriva e da una mazzata Rabiot attenderà il rinnovo di Allegri quindi il film dell'anno scorso lo rivedete quest'anno però intanto non rifarà un annuale sappiatelo quindi l'impegno anche della Juventus in una trattativa con Rabiot cambia rispetto a quella che si è poi verificata come situazione percorribile l'anno scorso per sua sua espressa volontà quindi intanto vedo che non è non non gode di questa stima incondizionata secondo me comunque Luca è una situazione emotiva io sono convinto che il giorno dopo Juventus Roma la maggior parte di questi di questi messaggi non ci sarebbero stati è emotiva perché non nascondiamocelo insomma la sconfitta di Milano sommata alla deludente pareggio con l'Empoli dove a proposito di 1 a 0 quello che è mancato è proprio una Juve che dopo l'1 a 0 anche con l'uomo in meno si costruisse qualche chance per chiuderla invece si siamo messi lì a un po' a rinculare indietro ed è arrivata la stoccata di Baldanzi che 5 giorni dopo è andato via e però però il clima diciamo un pochino più moscio un pochino più abbacchiato ci può stare e adesso ci sta che scappino fuori questi messaggi su rabbioma io sono convinto che un mese fa non sarebbe stato così. Marco Minolfi esprime uno dei più grandi paradossi del calcio è il più forte ma non sa passare la palla che non è un passatore no dico no cioè se uno non sa passare la palla è complicato pensare che sei il più forte perché vai ma no vabbè non è non è un grandissimo passatore ecco non so secondo lui ecco per il centrocampo di un top club Adriano Rabbio non ha tutte le qualità che servono secondo Lorenzo Gasparini intanto ehm si si divide molto sarebbe da sondaggio invece io vi porto un sondaggio che poco fa effettuato su X Leonardo Dorini che saluto da un amico del canale tornerà a trovarci e me lo sottopone mi dice guarda guarda sono molto molto incuriosito dall'esito di questo sondaggio che ho fatto e adesso vi vado a dire di cosa si tratta lui ha chiesto cosa deve fare la Juventus con Chiesa e ha messo tre opzioni rinnovo faccia lui il prezzo rinnovo a pari condizioni lasciamolo andare quasi il 40 per cento hanno votato lasciamolo andare e lui dice mi sembra un po' tanto dando le tre opzioni ehm però il mood anche qua questa settimana io vi leggo eh eh sugli argomenti è sempre e la fase down di Chiesa anche diciamo che come consenso se ci fosse l'indicatore di consenso in questo momento è il momento più basso un po' come durante i governi ci sono i momenti no del consenso e il consenso di Simone Tassara verso Chiesa come con la sette a Felipe Anderson ci mette il carico Sabre prego Simone che insomma è molto forte non è la seconda punta e quindi andrebbe rivisto in uno schema diverso quindi purtroppo la decisione l'anno prossimo giocheremo ancora col 352 allora devi fare forse delle scelte devi monetizzare e te lo dico a malincuore perché secondo me non ha espresso quello che avrebbe potuto esprimere poi detto questo è ovvio che ha anche avuto dei problemi di salute importanti e forse psicologicamente ha ancora delle remore questo sono congetture che posso fare dall'esterno quindi non è che posso entrare nella testa del giocatore o dello staff medico ehm se volessimo giocare con 4-3-3 allora non mi preverei certamente di Chiesa quindi forse la scelta è a priori ma vale lo stesso discorso per Rabiot eh quando sento dire adesso Rabiot aspetta che rinnovi Allegri cioè ragazzi eh se uno è forte gioca con chiunque non dico in ogni posizione perché ovviamente non possiamo mettere Rabiot punta e Chiesa terzino ma bisognerebbe partire dai giocatori forti che abbiamo Rabiot nel centrocampo di Berlino ci stava tranquillamente perché sarebbe stato supportato da un Pirlo da un Vidallo da un Pogba sarebbe stato il Marchisio il Gregario quindi se andasse all'Inter se andasse al Bayern Monaco dove c'è un centrocampo già forte secondo me verrebbe valorizzato di più è ovvio che se il centrocampista più forte che abbiamo è Rabiot che non sa passare la palla vuol dire che abbiamo un problema noi ma non perché abbiamo Rabiot perché non abbiamo altri centrocampisti a livello di Rabiot o superiori a livello di Rabiot e quello è il nostro problema non è Rabiot ragionamento secondo me abbastanza convincente quello di Simone poi qualcuno può dire ha messo a paragone Marchisio Rabiot non ha fatto questo gioco ma ha usato il concetto dell'eventuale rombo no del rombo il più grande rombo che ricordiamo dell'epoca recente la Juve cioè con i quattro centrocampisti no di 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 quel livello lì c'è come Marchisio avrebbe avrebbe eh diciamo sarebbe andato al massimo a giocarsi il posto con Marchisio ecco e che ci sta in quel momento anche credo anche per caratteristica alla fine considerato come era fatto Pirlo e quanto era pregnante e e specifico come giocatore Pirlo cosa sapeva fare Vidal cioè tutto ma dando quella quantità che nessun altro poteva avere Pogba ovviamente neanche a citarlo per certi punti di vista perché eh era era talmente esuberante dominante a tratti che che eh e Rabiot si sarebbe inserito invece in un in un discorso diverso senti eh Ale ma oltre a eh Simone Inzaghi all'inter di Simone Inzaghi quale altra squadra al mondo ti fa innamorare? Così capisco subito di che pasta sei fata. quest'anno seguo soprattutto Girona sono scontate però quelle sono Girona Girona una ti fa impazzire eh? Sì diciamo che quella che mi fa impazzire è la Juve anche se gioca male perché la tipo non è che cioè ti fa impazzire in tutti i sensi eh sì sì gli altri ti fa innamorare sei innamorato no vabbè poi io ho usato un termine un po' forte so che la chat poi prende quella parola e la usa contro di me. Non l'ha presa bene. Sì sì perché è l'Inter giustamente se dicevo mi ero innamorato del dell'Evercus e non diceva niente nessuno. Anzi ti dicevano sì portiamo Ciavia Rosso alla Juventus eh? Lo portavesti? Sì volentieri però credo che andrà o a Liverpool a sostituire Klopp oppure fa un altro anno là e poi se ne va a Madrid. Secondo me. comunque parlando di squadre che mi piacciono Bayer Leverkusen Girona in Premier League lo United l'ho sempre tifato ma quest'anno è è inguardabile non solo quest'anno però purtroppo io sono sempre stato un tifoso dello United perché quando ero piccolo mi seguivo Cristiano Ronaldo e è diventata la mia seconda squadra e Liverpool ti voglio dire una cosa incredibile cioè te la dico confidentemente una cosa incredibile sai che Cristiano Ronaldo ha anche giocato nella Juventus ce l'ho qua ce l'ho qua ce l'ho qua mi avevo fatto montaggio quello? no no guarda si muove si muove? ok no perché quando ero piccolo ho capito ti danno ti regalano il primo telefono apri YouTube cerchi un video prima della partita e ti guardi i video di Ronaldo e lì ti nasce la passione come 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 ragazzo è un po' quello che ti è successo la scorsa settimana con Alcaraz praticamente no con il Diz ho avuto le vibes di quando ero piccolo ho avuto le stesse vibes anche se ora ce n'ho 24 sono un pochino più ora ce n'ho 24 sono più oggettivo prima ero